Qual è il futuro remoto dell'universo? Adesso ne parliamo a futuro remoto 2012 con il professor Paolo De Bernardis, che è uno dei pochi italiani ad essere andato nello spazio. Non siamo i padroni della Terra, siamo semplicemente degli ospiti e forse dovremmo cercare, come tutti gli ospiti, di mantenerla in ordine quando andiamo via. Non c'è una scienza definitiva, c'è una scienza che evolve con l'evolversi delle teorie e delle misure. L'universo è fatto di molti mondi e soprattutto che l'universo sperimenta un'enorme quantità di combinazioni possibili. Il futuro è sempre stato un po' problematica, di solito, c'è stata delle grandi peure dell'anno 1000, eccetera. Quando guardi verso la Terra, vedi la stessa immagine, anzi meglio di quella del film. La globalizzazione è tecnologica, è economica. Abbiamo il sentimento che la planeta è tutta piccola e che abbiamo fatto il tour. Secondo lei questo è un incendio doloso? Ad occhio, un po' per l'esperienza, mi sembra doloso francamente. Per il tipo di rapidità, il luogo vicino alla spiaggia, non bisogna piegarsi e bisogna ripartire subito. Come un atto nei confronti della città, perché città della scienza appunto era un luogo molto sentito dalla città, molto amato dalla città. Va ricostruito, noi lo supplichiamo. Per non abbassare la testa, per i bambini è importante, è uno spazio che noi viviamo spesso. Napoli dimostra sempre il suo grande cuore. Era un polo di eccellenza e sentiamo che dobbiamo tutelarlo anche noi ragazzi che veniamo dalla provincia. commosso anche dalle parole dei ragazzi, dei bambini, c'è una voglia proprio di ricostruire e di ripartire straordinaria. Io penso che questo è un giorno di svolta per Napoli. Il museo, il Science Center ha un significato proprio in quel luogo, vicino al mare, come ricordo di quello che c'è stato per 150 anni in questa zona. Spostare da un'altra parte vorrebbe dire cambiare la storia, snaturale, il significato di questo museo scientifico, di questa fabbrica che è diventata un posto dove fare scienza e cultura nel quotidiano. Farla altrove vorrebbe dire in primo luogo darla vinta a chi ha, io credo che ci sia una questione politica di fondo, lo Stato non può arrendersi a chi ha tentato con quest'azione delituosa di annullare le decisioni dello Stato. Spostare da un'altra parte vorrebbe dire in primo luogo darla vinta a chi ha, io credo che ci sia una questione politica di fondo,